Raccontare Milazzo e la Sicilia attraverso un percorso artistico è stata la brillante idea del Lions Club Milazzo che in collaborazione con l'Istituto Artistico Renato Guttuso ha abbellito i 30 vassi posti nella scalinata di via Erta San Domenico che da Vaccarella porta al mestoso castello Simbo e la città del Capo. Inizialmente il Lions Club decise di adottare questa scalinata che è una delle scalinate più importanti e più belle di Milazzo che anticamente portava le persone dal mare al castello, allora era anche chiamata amuntata e ha un carattere storicamente molto importante. La scalinata quindi è stata adottata allora dal club e l'abbiamo inizialmente curata sia dallo scerbamento che dalla manutenzione ordinaria e successivamente il club decise anche di abbellirla comprando inizialmente 15 vasi quindi 15 vasi in cemento all'interno dei quali abbiamo piantato 15 alberi ornamentali. Poi successivamente in quest'anno sociale abbiamo comprato altri 5 vasi e piantumato altri 5 alberi per completare tutta la scalinata e ci siamo preposti un obiettivo molto ambizioso ossia quello di trasformarla in una vera e propria scalinata degli artisti. Come abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto coinvolto, grazie al nostro socio Angelo Siracusa che ha curato tutta la parte burocratica, abbiamo coinvolto la scuola e il liceo Guttuso e mi preme ringraziare la preside Guidaldi che ci ha sostenuto in tutto il progetto e la professoressa Lombardo che ha curato tutta la parte artistica. Abbiamo firmato inizialmente un protocollo di intesa con la scuola nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro dove 31 studenti della scuola hanno realizzato 15 opere d'arte, quindi 15 pannelli a tema storico-religioso e 15 pannelli a tema paesaggistico, quindi realizzando alla fine 30 vere e proprie opere d'arte che sono state successivamente attaccate a questi vasi che abbiamo disposto sulla scalinata. Un vero colpo d'occhio per i turisti che potranno ammirare queste vere e proprie opere d'arte e sentire meno la fatica delle scale. Un gesto semplice, un'associazione che ama il proprio territorio e lo vuole tutelare e valorizzare. Abbiamo pensato anche di rendere fruibile il bene culturale ai non vedenti andando ad attaccare, a fare realizzare una targa in linguaggio nero braille che potesse quindi descrivere ai non vedenti la scalinata. Inoltre sulla targa è stato realizzato un QR code che scansionato da cellulare farà ascoltare sia ai non vedenti ma anche ai turisti un'audio guida il cui testo è stato realizzato dai ragazzi della scuola. La guida è stata letta da una radio locale che ringrazio che è Radio Studio 5 in France.